San Michele, l'Immacolata e il Redentore sono i tre protettori della città di Caltanissetta ai quali i cittadini affidano le loro preghiere e la loro devozione per le grazie ricevute. E secondo la tradizione popolare fu proprio per ringraziare i tre santi che a partire dal 28 dicembre del 1908 si decise di portare le varie dei patroni per le vie della città in solenne processione. Nella mattina del 28 dicembre 1908 la città di Messina fu funestata da un terribile terremoto che distrusse buona parte della Sicilia orientale e della Calabria meridionale. I morti furono più di centomila. A Caltanissetta non vi furono gravi conseguenze e proprio in segno di devozione per il pericolo scambato e per chiedere la grazia affinché il terremoto non coinvolgesse in futuro la città, i fedeli accorsero in cattedrale e si rivolsero in preghiera ai tre santi. Fu così deciso di portare in processione tutti e tre i patroni della città che sono conservati proprio all'interno della cattedrale. Consuetudine questa che si è ormai consolidata nei decenni e che prende vita proprio nei giorni a cavallo tra Natale e Capodanno.